Fa discutere il presepe di Don Vitaliano, installato come ogni anno nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo nel borgo di Capocastello a Mercogliano in provincia di Avellino. Un presepe che come tutti gli anni mette al centro i fragili e gli esclusi. Stavolta il protagonista è la famiglia Arcobaleno. Al posto di Maria e soprattutto al posto di San Giuseppe c'è un'altra donna, un'altra Madonna. Una trasformazione che ha scatenato la classe dirigente politica della destra. Il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, con una nota ha definito il presepe come un atto di vera e propria blasfemia. Il presepe che come ha più volte ribadito Don Vitaliano vuole essere uno spunto di riflessione e dibattito su un aspetto su cui non è più possibile voltarsi dall'altra parte, cioè quello dell'inclusione in tutte le sue declinazioni, ha chiamato l'attenzione di Don Patriciello che su suo profilo Facebook si è espresso con due concetti diversi e complementari tra loro. Da un lato il rispetto della diversità e la necessità di discutere di tutto, allargando mente e cuore, e dall'altro rispetto anche per la fede cristiana, i suoi valori e le sue rappresentazioni più significative, come in questo caso la Sacra Famiglia, quella tradizionale. Perché la Sacra Famiglia racconta una storia in cui tanti altri si rivedono e che va rispettata, ma Don Patriciello va oltre. Chiede a Don Vitaliano di chiedere scusa a chi con la sua decisione ha mancato di rispetto e di rimettere San Giuseppe al suo posto. Per preservare le tradizioni fratelli d'Italia ha proposto un disgusto disegno di legge. La proposta firmata dalla senatrice Mennuni praticamente obbliga i presepi nelle scuole. Oltre al presepe incide sul principio di la città dello Stato, perché impone che le tradizioni religiose cristiane siano considerate come espressione più autentica dell'identità del popolo italiano. Una proposta che ha acceso un dibattito infinito non ancora concluso.